Grazie a tutti. Grazie a tutti. Goulin aiuterà, è diverso, ha più gamba, sono 23 anni, giocava partite, Anthony Reveller, il giocatore che era 4 mesi senza giocare, ha 34 anni e sta facendo il suo lavoro. Credo che tutti e due aiuteranno e chiaramente adesso Goulin, anche Mancino, ti dà una cosa diversa.